Ciao ragazzi, oggi siamo su Minecraft Allora, vi volevo far vedere cosa stavo facendo in questi tempi che cioè questi tempi che non che non sto facendo molto più Minecraft e per cui volevo fare insieme a voi un barbecue e come potete vedere ho il piccone della Black Everest che, oddio l'ho usato per andare in miniera perché non avevo più ferro e servono tante botole facendo del magazzino è molto più grande di quello che avevo mi piace di più in questo stile che le casse vengono verso di me è molto più bello così faccio due file poi c'è una farnace automatica che è solo un affumicatore e oggi voglio fare un barbecue insieme a voi funzionante mi devo fare una fornace scusate funzionante lo è chiudo sto coso è funzionante non l'ho ancora fatto ovviamente però magari spero che funzioni anche a voi perché la maggior parte delle volte che faccio queste cose non mi vengono per cui adesso andiamo sul mio posto in cui lo volevo fare speriamo che non diventi notte vabbè intanto io mi cerco il tutorial che so già qual è aspettate che ragazzi sto riuscendo a dormire fino a me andre allora adesso andiamo fuori subito va bene sono già fuori qua come potete versi dal portale del nere ho il picconcino incantato ho i polli ho le piccole ho le mucche ho un lama che ho catturato esattamente un secondo fa adesso vado a vedere il tutorial no aspetta io l'interiore un po' lo so già perché l'ho già visto un po' di volte dovrebbe essere questa cosa facendo sti buchi aspettate no ho sbagliato il pin ok allora ragazzi ho sbagliato io a fare il blocco potete vedere gli strumenti che servono per oggi ce li voglio nell'inventare per cui mettete il video in pausa e guardate e dovrebbe essere che fa così dovrebbe fare così mettiamo una cassa qua tramoggia qua poi fornace sopra tramoggia altra tramoggia qua e due sopra ok ragazzi ce la facciamo due sopra poi dobbiamo mettere andiamo dietro questi qua e mettiamo due scalini al contrario così poi invece dobbiamo fare anche sopra questi dobbiamo mettere altre due scalini al contrario io faccio così così mi viene meglio in teoria è così dovrebbe sì è così proprio adesso quelli li tolgo poi due rotaie sopra qua un 2 un 2 ah forse ne servono due di cornici due da metà qua con altre due bottole messe così e poi ci sono anche dei banner bianchi sarebbero degli standardi bianchi dovrebbe essere venuti dovrebbe essere venuti così bisognerebbe tappare la cassa così non si vede non so perché poi ci va una cassa ah perché forse ho capito tu le metti qua e poi te li sputa ospitati ragazzi che vado a fare ah poi ragazzi scusate intanto sto facendo una cosa e volevo fare anche vedere come si facevano gli standardi perché non so quanti quanti persone di voi possono sapere ho fatto anche una farm di pesca ovviamente questa qui si può espandere mettendo oppe e le casse si fa così blocco sonoro qua quello che si fa con la rezza non con il diamante un blocco qualsiasi qua sopra buco qua ok ragazzi eccomi scusate è arrivata la mia nonnina che saluto in questo video vi ho detto che è rimasta molto colpita da io l'ho ho detto per il coronavirus ovvero 65 poi ho detto che i tappini vi ricordate i tappini che ho fatto per sabato non ho ancora finito perché sto registrando questo video subito dopo quello che ho già fatto cioè quello di sabato cioè oggi l'ho già fatto e per cui vabbè adesso vado a fare gli standard avevo preso le cesoie perché se devo fare gli standard qua dice bianchi poi potete fare anche voi il colore adesso andiamo a fare prendiamo un pezzo di legno dopo questo qui lo abbatto tantissimo questo albero andiamo a fare adesso vi faccio vedere come si fanno su cui lo caccio qua a caso così ok si fanno così tipo un cartello solo che al posto del legno sopra ci va la lana per cui si mettono così no sbagliato aspetta forse si fa prima fare così così no ah perché vabbiamo messi sopra mettiamo la botola se si può mettere non si può mettere dobbiamo prima mettere la botola la giriamo girati e poi mettiamo questo qua e questo qua ok ragazzi un barbecue totalmente perfetto speriamo che sia finito adesso vado a vedere sempre quel tutorial che stavo guardando andiamo a vedere vediamo eh se aggiunge qualcosa vabbè li metto anche ai lati ma gli altri chi se ne ah ospedale la cassa dovrebbe essere qua qui no perché io perché la mia è là ragazzi devo smontare tutto bene cioè no non è che devo smontare tutto però devo fare tutto il contrario aspetta che uso questo che faccio prima ragazzi smonto tutto che bello mi mancava mi sto commovendo ok mettiamo l'operino qua mettiamo eh non così bisogna fare tutte le cose tecniche ragazzi perché sto usando la cesone la cesone mamma mia ma c'è la cesone e poi mettiamo la è giusto poi yes per cui in teoria ragazzuoli noi facciamo così andiamo a vedere se è giusto si è giusto in teoria scusate scusate che è tremato tutto lì vediamo esatto tutto a posto e è finito giusto ah oh yes non so se ho fatto bene io sta cosa no non ho fatto bene io questo perché ragazzi dovete sapere cosa è successo dove sono andate tutte ste cose dovete sapere ragazzi che qua non ti va bene niente non ti va mai bene niente ragazzi sta diventando notte perché questo qui bisogna collegata a quello giusto perché se io butto questo dovevo andare qua no no madonna no devo spostare questo ragazzi aiuto allora questo va qua dov'è l'opera no vieni questo va qua ragazzi diventa notte aiuto ragazzi così mettiamo così girati ok ancora così perché ho girato troppo io ok così così dovrebbe andare non c'ho la ciccia aspettate ragazzi non serve solo la ciccia serve il carbonski il carbonski perché non asco fuori caso ragazzi si entra così avete visto ragazzi che professionalità prendiamo un po' di carbonski tre c'ho la ciccia il pesce il pesce no il pesce fa chi col pesce andiamo a prendere le cicce andiamo a scuogliare a accarezzare un po' violentemente le mucche ok ok squartate un po' madonna semmà fosse scappata volata ci volatizzano le mucche ragazzi da oggi guardate ma che fantasia che abbiamo noi uomini mamma mia allora perché questo qui è ancora collegato ah no va bene allora noi dobbiamo inquadrare questa furnace mettere questo se riesco a tirarli sopra possibilmente non lo so barbecue funzionas barbecue funzionas bistecches ragazzi troppo forti loro c'è